Finisce 0-0 al San Francesco di Nocera Inferiore, un punto preziosissimo per il Brindisi, uno scontro diretto in chiave salvezza. Atmosfera surreale sugli spalti, assenti i tifosi della Nocerina, sciopero per i 66 d'Aspo giunti in settimana, assenti anche i tifosi del Brindisi dal settore ospiti come segno di solidarietà nei confronti dei rivali. Ancora problemi di formazione per il tecnico Biancazzurro che deve rinunciare all'ultimo istante anche all'attaccante Dorato che rientrava comunque tra i 22 convocati per il ritiro campano. Spazio allora al 3-5-2 con 5 under dal primo minuto, Pizzolato tre pali, linea difensiva con Dario, Iannicello e Capone. Centrocampo con Escu e Boccadamo sugli esterni, in cabina di regia ci sono Pizzolla, Marino e D'Ancora in attacco, Ancora e Toure. La Nocerina si affida soprattutto al suo principale talento, Lorenzo Liurni, il numero 10 finito nel mirino di molti club di Serie C. Veniamo alla partita, preme subito sull'acceleratore il Brindisi al primo minuto, occasione per Cristiano Ancora para l'estremo difensore avversario Scolavino. Ancora sarà tra i migliori in campo e si ripete al quinto minuto letteralmente scatenato l'attaccante Biancazzurro. Minuto numero 44 ci prova Sassà d'Ancora dalla lunga distanza ma senza fortuna. Con il montaggio di Alessandro Colavito passiamo alla ripresa. Si fa vedere la Nocerina al secondo minuto con Mincione. Quarto, nuovamente Brindisi in avanti, calcio di punizione di Marino. La partita tutto sommato è piacevole ed è il Brindisi a condurla. Fuori Martinelli dentro Conte per la Nocerina. Trentesimo minuto, occasione per i padroni di casa sull'asse di Amè Mincione. Sarà una delle pochissime opportunità per la formazione rossonera. Trentatresimo, la migliore occasione per il Brindisi. Ancora parte in contropiede. Scucchiaia per Sassà d'Ancora che colpisce un palo clamoroso a portiere. Battuto davvero sfortunato il Brindisi in questa circostanza. Quarantesimo, Brindisi ancora in avanti. Turè per Bocca d'Amo. La conclusione dell'esterno fuori di poco. Non succederà più nulla fino alla fine. Può recriminare il Brindisi per 1-0-0. Che tutto sommato sta stretto alla formazione di Toto Ciullo. Ma nel complesso si può parlare di un punto davvero prezioso. In chiave salvezza che muove comunque la classifica. Domenica prossima Ancora e compagni attenderanno al Fanuzzi il Casarano.